Continua il radicamento sul territorio anche in Abruzzo dell'USIF, Unione Sindacale Italiana Finanzieri. In poco tempo, la sua costituzione infatti risale al giugno di quest'anno, l'USIF ha avuto un numero di adesioni tale da diventare il sindacato maggiormente rappresentativo nella Guardia di Finanza. Dopo l'apertura delle sezioni di Teramo e di Roseto degli Abruzzi lo scorso 4 dicembre, sono arrivate le costituzioni delle nuove sezioni di Chieti 1, Chieti 2 con competenza su tutta la provincia, Pescara 1 e Pescara 2 specializzata nelle problematiche dei reparti aeronavali, a cui a breve seguiranno quelle delle sezioni territoriali di L'Aquila e Sulmona. Questa novità è la possibilità finalmente per i militari di potersi associare in sindacati per comodità, anche se la dizione è corretta, e associazioni professionali tra militari a carattere sindacale. E deriva da una sentenza della Corte Costituzionale dell'anno addietro che ci ha finalmente riconosciuto questa possibilità alla stregua di tutti gli altri cittadini italiani. E adesso cosa succede? Adesso ci stiamo organizzando, stiamo costruendo questa nuova associazione finalizzata alla difesa, alla tutela e soprattutto alla possibilità di concertare e contrattare su tutti i tavoli e a tutti i livelli quello che ci riguarda, il nostro mondo del lavoro.